Disegnare l'exibit vuol dire sicuramente interfacciarsi con una dimensione di esperienza, non solo spaziale ma anche esperienziale dell'utente, quindi è sicuramente un modo per far entrare l'utente in contatto con quello che fai e veicolare un messaggio. Rispetto agli interventi di interior design ti confronti con una dimensione sicuramente temporale, quindi vai a disegnare qualcosa di effimero che ha una durata nel tempo limitata e questo ti permette di sperimentare molto di più.